Un 2019 da record per Eurizon, la società del gruppo Intesa San Paolo che ha registrato un livello record di patrimonio gestito a 335 miliardi di euro, più 11% rispetto a fine 2018, e un utile netto consolidato a 518 milioni di euro, più 11,5%, e che lancia nel competitivo mercato della gestione del risparmio la Eurizon Capital Real Asset SGR, una new co specializzata nell'investimento in asset class alternative, focalizzate sull'economia reale. In un periodo storico di rendimenti e obbligazionari bassi o addirittura negativi, una strategia di investimento che risponde alle esigenze di una clientela che chiede alternative più remunerative di quelle offerte dagli strumenti di investimento tradizionali. Attualmente la quota di risparmio a livello globale investita nel private market alternativo vale il 10% del totale, un livello che secondo le stime può essere raggiunto anche in Italia. Ma che cosa significa investire nell'economia reale? Lo spiega Tommaso Corcos, amministratore delegato di Eurizon, che si avvia a prendere la responsabilità della divisione private banking del gruppo Intesa San Paolo. Investire nell'economia reale vuol dire che praticamente il risparmiatore, attraverso degli intermediari finanziari come siamo noi, mette degli investimenti che vanno direttamente nelle aziende oppure in investimenti infrastrutturali e progetti di medio periodo. E questo è un ritorno positivo perché non soltanto lui ha un ritorno da questi investimenti, è più elevato rispetto al tradizionale investimento obbligazionario o azionario, ma è anche un aspetto positivo che fa crescere l'economia del nostro paese. Eurizon Capital Real Asset parte con un patrimonio di 3,4 miliardi di euro e ha accesso ai principali operatori internazionali. Investirà su tre settori, imprese, infrastrutture, real estate, sia in partecipazioni azionari sia sul debito. Tra gli elementi distintivi la nuova società sottolinea l'allineamento con gli interessi degli investitori e l'assenza di conflitti di interesse perché non ha propri fondi nel settore da spingere. Silvana Chilelli, amministratore delegato di Eurizon Capital Real Asset, spiega a chi ha rivolto questo tipo di investimento. Sono investimenti attrattivi dal punto di vista dei rendimenti, ma non bisogna dimenticare il profilo di rischio e il profilo di illiquidità di questi fondi. Quindi servono competenze specialistiche ed è qui la decisione di creare un veicolo ad hoc. Si rivolge assolutamente a investitori istituzionali. Noi abbiamo già intesa vita come azionista e come investitore. L'obiettivo è quello di portare altri investitori istituzionali come altre compagnie di assicurazione, altri fondi pensione, casse, family office e poi il mercato dei private clients. Sempre parlando di investitori informati per cui abbia senso inserire i private markets illiquidi all'interno del loro portafoglio.